Ben trovati nell'angolo dello sport, Pescara che pareggia in casa con Lascoli, ad esaminare bene la partita momento per momento c'è da dire che forse il pareggio è il risultato più giusto, tutte e due le squadre hanno avuto le loro grosse occasioni, quella più grande è il Pescara con il calcio di rigore che è stato calciato male, non lo so, non si diceva sempre, rigore parato, rigore sbagliato, oggi non sono completamente d'accordo perché i portieri sono diventati molto più abili, molto più preparati, con i filmati studiano tutte le caratteristiche dei giocatori, pertanto riescono a sapere quasi con una buona percentuale dove andrà a finire il pallone, hanno sbagliato i rigori, grandissimi i calciatori, da Messi a Maradona e quindi non c'è da meravigliarsi più di tanto. 9.060 spettatori, nuovo record per l'Adriatico di quest'anno con 2.000 a Scolani, che dire della partita? Vista così dal punto di valutazione del cronista una bella partita, un derby molto ricco di emozioni, una partita anche piacevole per certi versi, è stata a tratti anche intrigante, però se dobbiamo analizzare il comportamento del Pescara, allora c'è qualche appunto da fare. Primo, una squadra che non ha saputo reggere i 90 minuti, più i 4-5 di recupero. Il centrocampo non è apparso in una giornata veramente ottima, perché Bruggemann e Memushai oramai sono conosciutissimi, si conoscono i loro movimenti e riescono a bloccarli tutti e due. L'unico un po' più fantasioso è Machine, che però si lascia prendere un po' la mano dalla sua fantasia, dalla sua verve, per cui fa delle giocate un pochino troppo artificiose ed è portato a sbagliare. Chi mi è piaciuto moltissimo è stato il difensore, Gravion, davvero un muro, non si passava dalla sua parte, però mi sono altrettanto piaciuti Balzano e Delgrosso, anche se è un tantinello al di sotto. La domanda che mi faccio è se Antonucci deve giocare per forza, perché nella economia del gioco del Pescara in questo punto mi è sembrato un po' fuori di luogo, ma del resto le scelte le fa il mister, noi le valutiamo soltanto e quindi dico, ribadisco, ma deve giocare per forza? Eh, se deve giocare va bene così. Monachello non è apparso, un granché, poi ha avuto quello scatto d'ira quando non ha accettato la sostituzione, beh, dovrebbe imparare ad essere più corretto ed educato, soprattutto nei confronti del suo mister, in considerare che lui è un professionista, è pagato e quando devi entrare entri, quando devi uscire esci. Parlerò diffusamente nelle prossime giornate, per ora un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso come sempre, un ringraziamento a voi e soprattutto al regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.